Dopo tante notizie di Corona Calera, un servizio più leggero con il quale ci occupiamo della festa agli Oltrisarco in Piazza Bersaglio. Il sabato del villaggio, così ribattezzato dagli organizzatori, in Piazza del Bersaglio è stato un successo. Bambini, giovani ed adulti hanno raccolto l'invito del Comune, della circoscrizione e della Confesercenti a partecipare alla festa. Un evento che ha preso il via sabato alle 17 ed è terminato verso le 23. Un'occasione per fare insieme, presenti diversi stand con cucina locale ed etnica, la musica, coinvolgente del gessato groove e l'animazione per bambini con l'apprezzato Castello Gonfiabile. Notevole interesse è stato riscosso anche dall'esposizione di Moto d'Epoca, che ha richiamato l'attenzione di appassionati enormi. Questo sabato del villaggio di Oltrisarco è stato una sorta di test ben riuscito in vista di nuove e più articolate iniziative da promuovere congiuntamente in un prossimo futuro. Nel corso della manifestazione, infatti, il Comune ha distribuito anche un apposito questionario predisposto dall'ufficio Tempi della città per raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei cittadini. Un modo per essere ancora più vicini al quartiere.